L'Italia è una repubblica antidemocratica fondata sulla burocrazia, la sovranità appartiene alla UE che l'esercita senza nemmeno bisogno di una costituzione. Ecco, per loro forse la costituzione è questa qua, per me no, per me l'Italia rimane la repubblica fondata sul lavoro e il popolo detiene la sovranità e credo che combatterò perché rimanga così. Grazie a tutti. Grazie.